Con questo video vogliamo presentare la masterclass in presenza sulla recitazione per il cinema che abbiamo chiamato Anima e Corpo. La prima edizione si svolgerà dal 5 al 9 agosto 2024. Saranno cinque giornate in cui io insieme alla troupe, i miei collaboratori, la mia compagnia, la nostra compagnia, vi proponiamo un programma serrato di teoria, esercizi pratici, prove sul set con camere e luci e di studio delle immagini girate e montate. Un primo avvicinamento al linguaggio dell'attore di cinema secondo il Red Method, alternati a momenti di visione di video, di film e momenti quotidiani di riflessione dedicati alla lettura e alla scrittura. Le lezioni si svolgeranno qui nel nostro studio e sarete ospitati in un casolare in campagna a pochi minuti da qui, nascosti nella campagna marchigiana. Il numero dei partecipanti è limitato, molto, possono essere massimo otto partecipanti. Saremo più noi della compagnia che i partecipanti e considerate che ad oggi abbiamo già cinque richieste, quindi nel caso vi interessasse e volete più informazioni, scriveteci subito a info-the-red-method.com o andate sul nostro sito, the-red-method.com, trovate comunque tutto sotto in descrizione. Devo avvisarvi che non è detto che accetteremo tutti, infatti per poter partecipare bisogna candidarsi e poi ci sarà un piccolo test per essere ammessi. Il punto è che a noi interessano persone che reputiamo veramente decise a voler imparare. L'obiettivo di questa masterclass è di selezionarsi, vi spiego, in previsione dell'apertura della scuola per gennaio 2025, selezionare noi quelli che potranno essere ammessi alla scuola e chi parteciperà a questo tipo di masterclass potrà selezionare noi come scuola, potrà vedere come lavoriamo, dove vogliamo portare gli attori. La nostra visione e le soluzioni che proponiamo ai drammi e alle sofferenze lavorative a cui purtroppo la maggior parte degli attori sono sottoposti per tutta una serie di ragioni che se state su questo canale un po' già conoscerete. Comunque non volevo fare del terrorismo dicendovi del numero dei posti e delle richieste già, anzi pensateci bene, magari vi potete comunque candidare, provare a fare il test e poi comunque decidere di non partecipare. Se ci saranno molte adesioni apriremo una seconda masterclass a settembre o ottobre finché c'è la richiesta, finché c'è vita. Con questo vi saluto.